Accidenti, cosa succede? Tutto fuori fuoco. Che ne so io, schiacciavo un po' tu. Mettila domanda. Eccola, eccola. Sono ormai due anni che con i miei ragazzi sono specialisti. Ripresi i matrimoni, cresimo. È un po' giallo, ma è bellissimo. Funziona? Sì, sì. È un po' giallo, ma è bellissimo. Funerale, fatto videoclip, pubblicità, tutto. Possiamo? Tutto.